e dunque arriva qui l'ok da parte del direttore di gara comincia empire marconi bianca contro asso calcio va ad allontanare la difesa serie di rimpalli deve arrivare poi lì pari per provare a portare su l'empire marconi alta la difesa però dell'asso calcio che cerca allora andare al recupero nella propria metà campo ci riesce ora solleva in verticale sulla destra occhio a di nardo perché può sterzare poi servire centralmente per il numero 9 prova a uscire dai blocchi la difesa arriva la prima conclusione di gara con il destro incrociato che si spegne largo calcio quando sono quasi due minuti sul cronometro ricordiamo tempo singolo da 20 a disposizione delle due squadre qui ancora asso calcio a provarci con gaeta prova a mettere in mezzo sfera che passa altro intervento decisivo di kurti fin qui disputando una grande gara in questi primi cinque minuti il numero 98 che è riuscito almeno a disinnescare tre occasioni buone ma arriva qui la rete del vantaggio da parte dell'asso calcio è 0 1 pallone che arriva comodo tra le mani dell'estremo difensore di nardo ancora chiuso da radelli che può andare poi calciare con il destro tensione qui al destro di scorcia sopra la traversa ma insiste l'empario marconi di nardo prova a tornare a ragionare ora l'asso calcio radelli però la recupera poi la fa battere sul corpo di gaeta ancora l'empario marconi bianca che può restare in zona offensiva qui con lo pallone è terminato nuovamente largo di nardo non passa possibilità dalla distanza per il destro di scorcia blocca il portiere c'è una punizione con di nardo che si trova in traiettoria può allontanare poi scorcia cerca di recuperare l'altezza della mediana su calcio che torna in possesso con di nardo a distribuire in orizzontale poi la sterzata e l'apertura per gaeta che si impegna qui per tenerla in campo non la può mantenere però in mezzo ai piedi il numero 18 poi ancora di nardo con il pallone ragionato in verticale di nuovo da di nardo che prova a piazzarla arriva radaelli con una chiusura decisiva di pari di nardo prova a sterzare ancora di nardo con il destro gran gol e raddoppia l'asso calcio con di nardo pallone sull'esterno prova a gestire podero ultimo tocco del 21 di pari di nardo sterza di nardo calcio poi con il destro pallone è recuperato ancora è rete dello 0 3 al suo calcio e dunque prova a mettere un po di distanza l'asso calcio fra se gli avversari 3 a 0 il punteggio quando mancano circa 6 minuti allo scadere di nardo prova a piazzare il destro 0 4 mette a terra di nardo con il destro qui non serve il pallone al compagno forse poteva cercare di chiudere il triangolo lungo giocatore in area di rigore ha provato di nardo a battere con il destro c'è stata comunque deviazione messa laterale in favore dell'asso calcio quando sono quasi 16 ora sul cronometro avanza l'empire marconi con scorcia ad andare ancora scorcia con il destro para l'estremo difensore ma non è finita perché ancora in proiezione offensiva l'empire marconi con todero la riconquistata però di nardo che può andare da destra e poi concludere deviazione la porta è sguarnita prova a chiudere radaelli torna ancora furto a bloccare di nardo per via centrali lascia lì il pallone al compagno 0 5 passo calcio dobbiamo triangolare di chiusura della coppa perpini a categoria 2014 tempo unico da 20 minuti parte questa poi sfiderà la terza pretendente la competizione attenzione intanto ancora però lasso calcio deve uscire curta valanga la porta è libera 0 6 radaelli ultimi 15 secondi attenzione qui al pallone concluso da navarini e arrivano i tre fischi da parte del direttore di gara che chiude dunque la sfida tra empire marconi a suo calcio risultato finale 0 6